LUCIA E se ti trovo, ti amo, ma stai barando, tu stai gritando, così non vale, è troppo facile così, trovarti, amarti, giocare il tempo, sull'erba morta, con il freddo che fa qui. Allora, belle, anche le immagini le ha fatte l'operatore insieme a te, la mattina, la canzone, un inizio un po' romantico, entra Bestetti, è un collaboratore, vista la bravura, Diana De Marchi benvenuta, Presidente Commissione Appare Opportunità in Consiglio Comunale di Milano, benvenuto anche a Marco Bestetti, Consiglio Comunale di Forza Italia, vi abbiamo messi di fianco, perché vi abbiamo messi di fianco? La cosa infatti è un po' di perpline, come dicono quelli che si trovano. Perché io ho visto Marco entrare, che non sapeva dove andare. No, in realtà la vicinanza ovviamente c'è distanza, non c'è dubbio, perché siamo entrambi di zona 6, di municipio 7, anche quello, però in realtà l'idea che Milano possa aver bisogno di un nuovo stadio non è così, come dire, non è che non vi unisca. Mentre c'è qualcuno che proprio il nuovo stadio non lo vuole, ed è qua. Buonasera a tutti. Gabriele Mariani, portavoce di Milano in Comune. Dicevano che io sto nel mezzo, in verità, perché loro sono no, 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 loro sono sì, 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 sì. No, noi parliamo sul no, no, no. Tu sei non lo so. No, io lo so molto bene, ma è una via di mezzo. Ma non lo vuole dire? Un'altra cosa sì, altre sono no. E non lo vuole dire? Va bene, ne parleremo, ne parleremo. Mi so. Allora, perché è intervenuto anche il calcio, no? Eh sì. A gamba tesa, perché cosa è successo? Beh, una delle ultime vicende riguarda l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, nonché marito di Milli Moratti, che ha un certo tipo di ambito politico a Milano già da tanto tempo e ovviamente non poteva che essere contraria a qualunque tipo di eventuale consumo di suolo, Massimo Moratti da ex presidente dell'Inter ha detto che è un anti nuovo stadio ed è un pro, teniamoci il meazza sostanzialmente. E lì è successo un po' di tutto, anche con Sala, insomma. Infatti Sala gli ha risposto e ce l'abbiamo, no? Noi abbiamo, allora... Un po' male ha risposto. Moratti dice quello che vi ho detto, Sala gli risponde, abbiamo Sala che risponde, mettete in mezzo tra i due Sala, vedrete che cambia un po' lo scenario, una frase di Moratti che è, beh, poteva anche evitare di avere una caduta di stile di questo di Enere, il presidente, scusate, il sindaco di Milano. Però sentiamo Sala pre e post replica di Moratti, diciamo così. No, non è questo contrario, lo facciano, nel senso che comunque non è che il referendum può togliere al ruolo del sindaco il fatto di prendere decisioni, sono stato eletto per questo e quindi le mie decisioni le ho prese. Il tema del vecchio stadio è però molto semplice, cioè tenere in funzione uno stadio del genere, fare una buona manutenzione, tenerlo in sicurezza, è qualcosa che costa tra i 5 e i 10 milioni all'anno, tra i tanti che si fanno avanti, non so, penso a Moratti, se lo vogliono acquisire, noi siamo felicissimi, noi siamo felicissimi. Il problema vero è che il Comune di Milano non può per il bene dei cittadini di Milano tenersi dei costi per impianti inutilizzati. Io con Massimo Moratti ho un rapporto totalmente cordiale, ieri sera ci siamo visti da Gino Strada e ci siamo salutati super affettuosamente, quindi le battute sono le battute. Allora Mariani, sei d'accordo con Moratti? Ma intanto diciamo che con piacere Sala ha preso posizione sul referendum, dicendo prima che era contrario, adesso poi ha detto se vogliono farlo lo faccio. Sì, ma tanto non conta nulla, praticamente anche detto. Andremo a vedere, diciamo che noi abbiamo lanciato l'idea di referendum già dal 4 novembre, poi i tempi sono corsi moltissimo, c'è anche il comitato Simiazza che segue e che porta avanti con grande efficacia il tema dello stadio. Ma il discorso del referendum, io invito chi ci segue a pensare, è la massima espressione della democrazia. Che cosa non c'è di più pertinente di fare un referendum su un argomento che coinvolge tante tematiche? Ma tu lo faresti nel Municipio 7 o in tutta Milano? No, no, assolutamente un referendum assolutamente cittadino, ci sono 120 giorni dalla delibera, quindi sono passati 15 giorni, abbiamo ancora 105 giorni per raccogliere le mille firme per presentare il quesito. Allora, questo... Ricordiamo che sarebbe un referendum consultivo. Eh, questo dipende perché ci può anche essere abrogativo. Esatto, non si può fare diversamente. Comunale no. Comunale no. Non si può. Dovresti andare oltre, nel senso che non dovrebbe più essere un referendum comunale. Esatto, però il referendum comunale potrebbe essere come è stato fatto quello sui navigli, Esatto. Era stato fatto, che poi peraltro non è stato rispettato. È quello che dice Sara, cioè alla fine votate. Esatto, però intanto sentiamo cosa ne pensa la cittadinanza. Voi due cosa ne pensereste del referendum, De Marchi? Ma, non so, si può anche fare però, insomma, diciamo che il Comune ha già espresso i propri pareri, ha già consultato, ha fatto una serie di incontri, abbiamo passato ore e in sala consigliare a discutere con tutte le realtà, pro, contro, cioè c'è già stato anche un confronto con la cittadinanza e con i soggetti che volevano partecipare, hanno avuto parola a tutti. Sono due anni che si va avanti. Sono due anni, infatti per quello dico, ci sono state molte occasioni. Io credo che adesso sia il momento di decidere e di decidere però confrontandosi, cioè nessuno... Quindi no il referendum, diciamo le cose sì o no, perché non sono le risposte democristiane. Figurati, io sono pro referendum in generale, dico che forse è tardi per fare un referendum. Ok, è tardi. Vestetti. Io sono talmente favorevole, mi permetto di correggere il collega Mariani, perché il referendum non è stato proposto il 4 novembre da Mariani, il referendum è stato proposto tre anni fa da un gruppo molto composito di consiglieri comunali, è stato presentato in una conferenza stampa pubblicamente a Palazzo Marino, c'era anche il logo Comitato Simeazza, o meglio scusi era il Comitato contro l'evoluzione del Meazza, di cui ho fatto parte da Presidente del Municipio 7, ma c'erano in quella presentazione tutti gli schieramenti che siedevano in Consiglio Comunale, tanto di centrodestra quanto di centrosinistra, quindi sono assolutamente favorevoli a questa consultazione, essenzialmente per due ragioni. La prima è per ricondurre il luogo del dibattito là dove proprio che stia, cioè tra i milanesi. Milan e Inter hanno sbagliato l'approccio fin dall'inizio con Scaroni e Antonello, quindi Milan e Inter, i due management delle società, che parlavano dello stadio come se fossero loro dependance, come se fosse proprietà loro, invece non è casa vostra. Il secondo motivo è proprio chi è il proprietario dello stadio, del piazzale, chi sono i cittadini di Milano, perché magari non tutti lo sanno, ma il piazzale dello stadio e lo stadio sono di proprietà dei milanesi e quindi credo che sia non solo un diritto, ma doveroso che si chiede al parere dei proprietari di quell'ambito e di quel territorio. Se vogliono, non vogliono che un luogo come quello venga raso al suolo, anche perché non stiamo parlando con tutto rispetto. Ma il tema è che non viene raso al suolo, quello viene raso al suolo, non ditemi che lo scheletrino che rimarrebbe in piedi, il feticcio di San Siro, sia mantenere il meazza. O al momento, poi se domani mattina Milan e Inter presentano una nuova soluzione che prevede la compresenza di due stadi, per me sarebbe una farsa allucinante, anche perché dovrebbe spiegarmi effettivamente chi si prende in carico il meazza senza il calcio per gestirlo con i costi di manutenzione che ha, perché al momento, l'ultimo progetto presentato dalle società prevede il nuovo stadio con un moncherino, con un pezzettino, uno scheletrino di meazza che non si capisce bene cosa stia lì a fare, quindi se quello è mantenere il meazza è una presa a giro. Adesso la vediamo, la foto. Questo in realtà è il progetto Populos del nuovo stadio, poi in fondo vedrete anche che fine potrebbe fare il moncherino. Dovrebbe, potrebbe, però scusate noi abbiamo, l'ho portato, perché noi abbiamo fatto un ordine del giorno perché il Consiglio Comunale può dare delle linee di indirizzo, nelle nostre linee di indirizzo è chiarissimo, intanto siamo riusciti già a modificare quello che era stato invece l'errore e cioè un'edificazione maggiore rispetto al PGT. Infatti si è abbassato la soglia di indirizzo e ci siamo creati più problemi così e poi vi spiego magari perché. Dal punto di vista economico degli oneri, indubbiamente, però dal punto di vista della tutela dell'ambiente e del verde invece è una conquista di cui noi siamo orgogliosi e credo che vada sottolineata proprio perché lo sappiano anche i cittadini e le cittadine milanesi che la costruzione non sarà più quella prevista ma l'indice edificabile è stato abbassato 035 e quindi questo è già un primo successo che rivendico con forza perché stava scritto anche in quello che noi chiedevamo, dopodiché il resto ancora non è deciso, è previsto un possibile dibattito pubblico che abbiamo già e quindi di fatto c'è un altro momento, però non è il referendum, ma alla fine è il referendum, ma ragazzi è il referendum per come lo descrivevano, è davvero superato, allora facciamo così adesso diamo la parola a Mariani, ma siccome sono il puntora dobbiamo dare la pubblicità e poi vediamo di capire, quindi il referendum mi sembra che non ci sarà da quello che non ci sarà, dipende dai proponenti, dipende dai sottotitoli, quindi non è che dice il sindaco, se c'è un uccellatore, il sindaco decide che anche se c'è il referendum consultivo non è necessariamente comunicato alla tutela, e ha già detto che se ne fregherà aggiungo anche, scusa l'ultima battuta, che mi piacerebbe sostenere un referendum anche perché il sindaco ha fatto di tutto per scappare dal giudizio di Milanesi sullo stadio, perché non venitemi a raccontare che fino a un giorno prima delle elezioni, alto mare, non ci accordo con le società, chi è il proprietario, il giorno dopo le elezioni hanno sfornato dal cassetto in una settimana un accordo, perché non voleva tutti i cilimicarsi, tutti i nostalgici altrimenti sarebbe presentato alle elezioni come il sindaco che demolisce il meazza pubblicità poi ne parliamo, San Siro resiste oppure no, dopo la pubblicità c'è un grande fermento alla mondo Flex, questa è la telepromozione di fine anno e ancora una volta devo dirvi grazie, grazie per aver premiato la nostra professionalità vi aspettiamo con le nostre offerte di fine anno una rete con alzata a motore con un materasso in memory a 590 euro e in regalo un guanciale e un coprimaterasso, poltrona relax a due motori più il movimento alza persona con il kit roller a soli 850 euro e in omaggio il set copri poltrona un cuscino poggiareni e un collare per la cervicale, queste sono solo alcune delle nostre promozioni con i pagamenti rateali senza interessi, agevolazioni fiscali e il super sconto della carta oro ma chi sono io? Babbo Natale? Scegliete MondoFlex perché MondoFlex fa la differenza Buon Natale e buon anno a tutti! Vamag tecniche di collaudo presenta One Stop, questo sistema di ispezione rapido e di facile utilizzo può effettuare un'ispezione completa del veicolo in meno di due minuti il sistema raccoglie informazioni preziose sull'allineamento di un veicolo, le prestazioni dei freni e delle sospensioni, lo stato della batteria, la diagnosi della centralina, lo stato dei pneumatici e altro, aprendo nuove opportunità di guadagno per la tua officina e migliorando la fidelizzazione dei tuoi clienti, Vamag realizza anche la più completa gamma di banchi prova a rulli presente sul mercato, frutto di ben 35 anni di esperienza, Vamag dal 1981 European Quality Made in Italy Eccoci, enjoy electric, oggi anche con free lease e noleggio flessibile Mercedes-Benz Scopri Eccoci su mercedes-benz.it Per la tua Mercedes-Benz scegli la grande famiglia Venus E se volete sapere tutto sulla salute, l'appuntamento è con Sei in Salute, quando? Lunedì alle 23 e la domenica alle 13.30, a meno che non ci siano le partite di calcio allora ci siamo alle 15 E quindi Telenova, Canale 14 Sei in Salute Allora qua il problema è decidere innanzitutto se fare il referendum e se ascoltare l'esito del referendum, l'altro problema è che cosa fare appunto di San Siro, no? Perché non è che uno esclude l'altro da quello che capiamo, no? Cioè il fatto che venga costruito un nuovo stadio non implica necessariamente che venga abbattuto San Siro Ecco, però appunto, esatto, però beh se dicevo voglio vedere poi quando ne abbiamo due Marianne, allora perché non, però partiamo da Monte perché la vostra richiesta sarebbe quella di ristrutturare San Siro e non costruire lo stadio nuovo Assolutamente, cioè io ricordo che la legge sugli stadi prevede prioritariamente il mantenimento degli impianti e deve essere dimostrato che non è possibile mantenerli Ed è stato dimostrato Ecco è qui il punto, è stato dimostrato sì o no? Assolutamente no No, il progetto Aceti Magistretti che immagino sia ben conosciuto in comune prevede di riqualificare il Meazza alla metà dei costi con un progetto innovativo dove le funzioni accessorie che il progetto delle squadre mette a terra quindi consumando suolo, le mette in sostituzione del terzo anello questo progetto tra l'altro cioè i ristoranti, la parte accessorie sarebbero sopra 10.000 metri quadri su 11 metri d'altezza quindi può avere addirittura tre livelli e può contenere 30.000 metri quadri e costerebbe 500 milioni costerebbe 300 milioni 300 la metà di quello delle squadre perché quello delle squadre costava un miliardo ma abbassando l'indice volumetrico è diventato 600 la costruzione dello stadio ha solo lo stadio la costruzione dello stadio è 600 quindi davanti a questa possibilità e perché Inter e Milan dicono di no? perché faccio presente a Diana De Marchi che ha votato la delibera del Consiglio Comunale quella anche del 2019 che c'è un tema di fondo che gli stessi uffici tecnici hanno rilevato i settori del Comune di Milano hanno fatto una verifica e hanno su 29 impianti nuovi costruiti in Europa e hanno dimostrato che il costo medio di uno stadio è di 3.600 euro a posto mettendo dentro anche Wembley che è costato 9.000 che quindi fa alzare la media la proposta delle squadre nello stadio la proposta delle squadre costa 8.400 euro a posto allora qui c'è il tema che il costo dello stadio secondo me è il sistema intorno al quale ruota la proposta delle squadre per fare altrettante volumetrie che giustifichino e che comprensino la costruzione dello stadio perché la legge dice che le volumetrie accessorie servono per rendere economicamente sostenibile l'operazione quali sono le volumetrie accessorie? beh le volumetrie accessorie sono funzioni per l'area sportiva che sono punti vendita ristoro accoglienza sala VIP lounge poi ci sono anche 8.000 metri quadri per attività convenzionate quindi che eccedono lo 0.30 quindi tutte queste cose non ci sarebbero ovviamente nella ristrutturazione di San Siro e questo farebbe sì che il costo sarebbe così più basso e questo è quello che allora perché Inter e Milano hanno detto di no? allora innanzitutto mettiamo un po' i punti su un paio di cose la prima l'oggetto di questo progetto si divide essenzialmente in due parti la semplifico una parte è lo stadio quindi ristrutturo o non ristrutturo lo faccio nuovo e l'altra parte sono i volumi ulteriori da fare nell'area intorno per riqualificare quella che in maniera molto improvvida Scaroni definì una landa desolata che è l'intorno dello stadio che è parte parcheggi che sono i parcheggioni in parte ha ragione Scaroni ma non dimentichiamoci che in parte è anche il nuovo parco dei capitani Facchetti e Maldini che è un parco realizzato a spese dei milanesi 5 anni fa, 6 anni fa nuovo di pacca di zecca Prato, parco verde non è la landa desolata è un parco sì, perdonami è quello che abbiamo anche filmato dove c'è questa pietra in cui c'è scritto in memoria di Giacinto Facchetti quanto è grande? ci sono 4 panchine 4 una dozzina di alberi ce l'abbiamo le immagini? sì, dentro immagini stadio lo vedete dentro immagini stadio parco parco mi sembra esatto perdonami quando è stato fatto è stato fatto proprio con l'obiettivo di renderlo un parco ok, è questo? non ce l'abbiamo fatta non è che ce l'abbiamo fatta abbiamo appena iniziato cioè non è che un parco nasce dalla mattina alla sera non è un caso che non mettano alberi su quel parco perché probabilmente ci sono comunque quindi gli oggetti del progetto sono essenzialmente due la mia posizione per esempio non è negativa su tutto io il tema per esempio dei volumi ulteriori rispetto a San Siro cioè quello che avrebbero dovuto costruire o dovrebbero costruire fuori dallo stadio non mi vede affatto contrario nel senso che il tema del consumo di suolo per me è un non problema perché abbiamo una visione molto provinciale del consumo di suolo dire ai milanesi abbiamo ridotto il consumo di suolo dallo 0,70 allo 0,51 allo 0,35 come se fosse un bene aspetta appunto come se fosse un vantaggio per l'ambiente ricordo che i volumi si possono sviluppare o in orizzontale o in verticale se io i volumi li sviluppo con una torre che mi consuma adesso sto ovviamente banalizzando beh pensa a City Life 50 metri quadri e la tiro su per 100 piani io faccio volumi enormi e non consumo suolo se poi faccio fammi finire faccio fammi finire no e non sto andando fuori argomento perché fammi finire fammi finire fammi finire la sostenibilità del progetto passa tutta da lì se le società hanno e arrivo alla tua domanda del perché vogliono farlo hanno l'esigenza di monetizzare sia l'Inter che il Milan non prendiamoci in giro appena firmeranno quel contratto venderanno uno il Milan è un fondo e i fondi finanziari hanno come unico obiettivo statutato quello di guadagnarsi quello di far guadagnare i loro investitori punto non c'è progetto sportivo visione della squadra infatti è un fondo quindi c'è l'esigenza di fare soldi è questo il parco legittimo non è nulla non è un reato non è un opportuno è legittimo sono delle società che devono fare soldi speculando su un'operazione di questo genere ora se volete fare i soldi non voglio dire di no a Milano e Inter perché non possiamo permetterci che queste se ne vadano quindi volete fare i soldi sono favorevolissimo a farvi costruire i vostri volumi anche pieni da legge stadi nella parte fuori sviluppandosi in altezza per esempio ricordo alle verginelle che oggi parlano di consumo non sto difendendo no in generale alle verginelle che si scandaliziano Diana non è tu mi prego è proprio inappropriato sulla costruzione sono gli stessi che facevano le fiaccolate le manifestazioni quando si pensava di fare City Life o le ex varesine e adesso sono gli stessi che vanno a fare i fighettini a farsi i selfie hashtag bella Milano perché fa figo farsi le foto davanti ai carattacchi però all'inizio erano contrari quindi e chiudo davvero il tema è se Milano e Inter vogliono fare soldi facciamogli fare questi soldi non gli dico di no va bene volete costruire i vostri palazzi il centro congressi va bene riqualifichiamo ma non tirate giù il meazza che è un simbolo di Milano e dell'Italia nel mondo riconosciuto da tutti allora tu sei d'accordo sullo ristrutturare il meazza di fare tutto lì? assolutamente sì io sono d'accordo allora dobbiamo farlo sedere di là riqualificare riqualificare la parte diciamo esterna allo stadio con il progetto però Inter e Milan devono continuare a giocare lì assolutamente lì riqualificandolo o con il Lacetti Magistretti quindi il progetto che ha descritto poco fa Mariani che è anche bello e suggestivo oppure riscoprendo quel progetto commissionato dall'Inter non da me da Mariani o da Magistretti ma commissionato dall'Inter epoca Toir quando il Milan doveva andare con la Barbara Berlusconi a costruire lo stadio al portello e il Meazza rimaneva dell'Inter c'è un progetto dell'Inter che testimonia e prova che si può riqualificare lo stadio Meazza garantire le società una redditività con dei volumi anche di commerciale di servizi ulteriori per fare più ricavi che questi lavori è cambiato completamente che questi lavori sono compatibili con la prosecuzione del campionato costano di meno e la durata del cantiere infatti dopo la pubblicità Bestetti lo facciamo studiare di là ma non è così perché poi dice come non è così cosa che non è così i progetti dell'era ma non è vero perché invece voi escludete in maniera perentoria il fatto che venga strutturato San Siro e si utilizzi San Siro perché dai costi e da quello che appunto può essere l'utilizzo del vecchio Meazza non ci sono le condizioni per farne uno stadio che sia efficace ma il piano che ti presbetta l'unico non gli studi che sono ma non è vero no scusate fatela parlare voi avete parlato non fate parlare lei però questa fase l'abbiamo discussa per mesi e siamo appunto avendo parlato con tutti i soggetti protagonisti arrivati a quella conclusione che noi daremo comunque le linee di indirizzo e decideremo quindi non è che arrivano e poi fanno quello che vogliono come sembra dal discorso che hai fatto tu Bestetti perché non è così cioè il comune comunque decide e perché si è fermata l'operazione si è fermata perché quello che proponevano le squadre non era no non erano le elezioni non c'erano le proposte che erano in linea con quello che noi abbiamo detto essere i criteri principali da seguire allora io insisto il successo del 035 invece varia indicato adesso poi è un successo perché dal punto di vista del verde fruibile e quindi dell'ambiente del rispetto della rigenerazione ma perché se faccio una torre di cento piani cosa distrugge ma tu non fai la torre che è richiesta o fai la costruzione ma come chi l'ha detto gli accordi che si devono prendere lo stadio sarà uno stadio gestibile e utilizzabile per le condizioni che verranno poste e l'altro diventerà la cittadella dello sport questo è quello che succederà cioè l'altro vuol dire San Siro esatto quindi non viene abbattuto non viene abbattuto viene mantenuto come si può mantenere migliorandolo e rendendolo la cittadina dello sport sono due stadi sono due soluzioni con fruibilità diversa uno mantiene intanto quella appunto aspetto adesso replica Mariani ricordo del mezzo quindi tu dici resta l'Inter e Milano a giocare quello nuovo e San Siro diventa appunto un vorrei fare un discorso bello chiaro perché al di là dei comizi di Bestetti dei comizi scusami se è argomento allora siccome ti voglio far parlare bene ti devo mandare la pubblicità eh sì perché sennò dopo 30 secondi ti trovo però questa volta parla lui perché sennò poi ti va a parlare no no parli tu San Siro non si tocca scrivono imparate dalla Spagna vedi nuovo Bernabeu è quello che dicevamo prima noi demolire la scala del calcio è come buttare giù il Duomo di Milano esattamente e comunque non viene demolito dopo la pubblicità sentiamo Mariani ma no For la porta blindata certificata in classe 4 anti-infrazione non affidare la tua sicurezza a una semplice porta For è la soluzione economica e di alta qualità sicura elegante e inattaccabile For è realizzata con le tecniche di ultima generazione per garantire la massima affidabilità struttura in acciaio zincato a doppia ramiera coibentazione interna e doppie guarnizioni perimetrali per un isolamento termico e acustico ottimale For serratura interbloccante con doppi cilindri e defender antitrapano con deviatore di chiusura superiore e inferiori a 4 punti lato cerniere con ben 4 punti di chiusura tutta la sicurezza che ti serve al piccolo prezzo di 1450 euro sì hai capito bene 1450 euro misura posa trasporto e iva sono compresi nel prezzo ricorda grazie alla detrazione fiscale in vigore For ti costerà solo la metà non affidarti più alla tua vecchia porta non certificata che chiude male e non garantisce la tua sicurezza e quella dei tuoi cari affidati a For un prodotto Ferrinox che da oltre 35 anni costruisce i migliori prodotti per la sicurezza della tua casa Ferrinox sicurezza della tecnica tecnica della sicurezza c'è qualcosa di nuovo in città l'esperienza del gruppo Fassina incontra il glorioso marchio MG e la sua gamma di vetture ibride ed elettriche un vero concentrato di tecnologia ed efficienza con 7 anni di garanzia e ben 5 stelle Euron Cup affidabilità e sicurezza ma anche interni spaziosi confortevoli e ricchi di funzionalità intelligenti c'è una MG e HS plug-in hybrid adatta ad ogni stile di vita vieni a scoprirla e a provarla da Fassina in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano per la vostra pubblicità su Telenova potete scrivere all'indirizzo paolo.bobbiese chiocciolatelenova.it oppure telefonate allo 0287 16 56 21 allora abbiamo sentito cosa ne pensa Bestetti cosa ne pensa De Marchi della convivenza o meno dei due stadi allora Mariani intanto allora voglio dire se il piano di governo del territorio che è stato varato poco prima dell'inizio dell'iter dello stadio prevedeva lo 035 metri quadri su metro quadro non è che qui ha vinto qualcuno perché ha ricondotto le squadre al rispetto di una cosa che si sapeva doveva essere rispettata che è lo 035 prima cosa seconda cosa è evidente che con uno con dei costi gonfiati per la costruzione del nuovo stadio gli indici probabilmente alle squadre non tornano ma con un progetto congruente con i costi congruenti che non li dico io li dicono i settori del comune di Milano è evidente che quello 035 è un indice che è sostenibilissimo per l'operazione dello stadio ma questa cosa qua a voi consiglieri comunali che avete votato la delibera già nel 2019 sarebbe dovuta essere chiara perché io ho l'impressione che voi non avete neanche letto il verbale della conferenza dei servizi ma come no diventa complicato però chi ci segue scusate però la conferenza dei servizi la delibera non capisce niente nessuno comunque no 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 però resta su di te per me in maniera semplice è chiara però la cosa che hai detto all'inizio è vera cioè lui dice c'è un PGT c'è scritto 035 basta adesso facciamo santifichiamo non è tutta questa grande vittoria seconda cosa era officato tendenzialmente dopo di che le proposte non erano bene ok ok Diana De Marchi dice che hanno apportato delle migliorie al progetto delle squadre in termini di verde ambiente eccetera allora mi piacerebbe chiedere quant'è il verde profondo non sto parlando cosa si intende per verde profondo il verde dove piove c'è il prato e sotto c'è la terra ok ecco quanto è quello proposto dalle nuove squadre finito il progetto e quanto è quello di adesso quello di adesso glielo dico io è 50.500 metri quadri che corrisponde al parco dei capitani quello nuovo lo dice il documento e c'è scritto nella delibera nell'ultima delibera è 26.000 metri quadri quindi la metà la metà quindi di che cosa stiamo parlando perché costruiscono lì lo stagio il PGT stabilisce lo 035 non starei a farla lunga come l'ha fatta Bestetti Grattacieli Mica Grattacieli quello che prevede il PGT si faccia e va bene e però non era la proposta delle squadre va bene però si rispetta il PGT Diana De Marchi voi siete l'istituzione chi se ne frega di cosa vogliono le squadre avete in mano un'area urbana di vostra proprietà di nostra proprietà di 281.000 metri quadri invece che affidarsi al progetto delle squadre lì si sarebbe dovuti partire dall'inizio ma ancora prima della proposta delle squadre e fare un piano di sviluppo gestito direttamente dal comune che diventa lui attore il comune attore della trasformazione cioè tu stai dicendo che il comune si è asservito ai desideri di Inter e Milan questo stai dicendo però scusa noi abbiamo votato esattamente il contrario dicendo che la guida del percorso di riqualificazione non compete alle squadre ma anzi il patenariato pubblico ma vabbè privato quella delibera che avete votato di fatto prendeva atto del progetto delle squadre tant'è che noi stiamo parlando di demolizione del Meazza voi stessi già nel 2019 avete previsto l'ipotesi di rifunzionalizzazione del Meazza voi non vi siete opposti voi fin da subito appena è stato presentato il progetto e vi è arrivato in consiglio voi subito avete di fatto avvallato l'ipotesi di abbattimento del Meazza e quando si dice che questo è tutto nuovo tutto diverso faccio presente che l'ultima delibera questa del 5 novembre riprende parte esattamente dicendo fermo restando parte direttamente parte dalla delibera di due anni fa evidenziando tutte le criticità quindi dove sta l'interesse pubblico però scusa posso dirti che c'è una differenza tra il lavoro della delibera e quindi della giunta e il lavoro del consiglio comunale sono due cose diverse noi non abbiamo votato la delibera in giunta perché siamo il consiglio comunale ma lo so ma è chiarissimo il consiglio comunale ha risposto a quella delibera con un ordine del giorno dettagliato che dice esattamente il contrario e questo è quello che ha preparato la delibera di giunta di fatto è stato quello no è il contrario l'ordine del giorno è arrivato dopo proprio perché noi invece abbiamo ascoltato abbiamo fatto tutti gli incontri e quindi rilevato quali erano le criticità e le abbiamo indicate in un ordine del giorno che è stato votato dal consiglio comunale per dare una linea di indirizzo prevedevate già l'abbattimento del meazzo no non c'è assolutamente scusa rifunzionalizzazione cioè non è stata una novità tu dici c'era già dall'inizio no ma nessuno capisce scusate parliamo allora significa che si tiene va bene ma rifunzionalizzazione facciamo la semplice si costruisce se ci sono le condizioni e il rispetto di quella che il consiglio comunale dà come indicazione si costruisce quello nuovo e si riutilizza la parte di quello vecchio che è utilizzabile per la cittadella dello sport si abbatte parzialmente quindi con una nuova funzionalità dimezzando la superficie a verde profondo sì perché tu costruisci sul prato perché c'è lo stadio nuovo qualcuno dice aiutate l'amministrazione comunale a comprendere che se edificheranno lo stadio nuovo consumando peraltro necessariamente l'area verde esistente quello che diceva Mariani si andrà in conto la situazione evidenziata nella suggestione qui allegata vi racconto la foto cordialità Riccardo lui allega la foto di stadio nuovo cantiere stadio vecchio di fianco olimpiadi 2026 perché in realtà le olimpiadi 2026 la cerimonia bisogna farla a San Siro quindi lui dice qua è un casino totale quella parte di città sì perché inizieranno a costruire però contemporaneamente devono mantenere San Siro per fare la cerimonia inaugurale cerchiamo di spiegarla questa cosa perché c'è il rischio che per anni sia un macello per caricare un pochino ancora di più questa discussione un altro elemento che me preoccupa tantissimo sì allora ogni volta che si fa un intervento privato in città di edificazione il privato che edifica un palazzo una casa o qualcosa deve pagare al comune dei costi degli oneri si chiamano oneri di urbanizzazione cioè deve dare dei soldi al comune quando il comune è bravo o questi soldi li incamera e serve per far quadrare il suo bilancio come se fosse una tassa oppure se trova un operatore bravo utilizza questi soldi dice no guarda caro operatore non bonificarmi a me è comune utilizzali per realizzare delle opere sul territorio di interesse pubblico tipo delle scuole le farmacie la rotonda il parco le pensionine tutto quello che ritieni utile fare questo è uno strumento che i comuni utilizzano per fare opere pubbliche senza passare dalle forche caudine degli appalti ai quali invece e senza spendere soldi loro e senza spendere direttamente soldi loro qual è l'assurdità di questo progetto ad oggi poi mi auguro che lavorandoci insieme si correga ma è bene che i cittadini lo sappiano queste opere si fanno anche quando si costruisce una banale palazzina una casa modesta normale il progetto del nuovo stadio costa ad oggi poi lo ridimensioneranno visto la riduzione delle volumetrie ma l'ultimo dato che abbiamo è un miliardo e duecento milioni di euro sarà sicuramente meno perché hanno abbassato la cifra conosciuta ad oggi è quella vedremo di quanto si ridimensiona ad oggi è un miliardo e duecento milioni una cifra elevatissima voi sapete che a fronte di questo investimento mastodontico non esce dal perimetro dell'intervento neanche un euro perché questi oneri di urbanizzazione che anche Milano e Inter dovranno pagare li utilizzeranno per fare delle opere sì formalmente di interesse pubblico ma che ricadono nel perimetro dell'intervento una su turno quindi dentro lo stadio dentro il perimetro tra cui per esempio io dico una il tunnel patroclo che è il sottofasso ce l'abbiamo il tunnel patroclo perché questo vedete cos'è cioè è un tunnel che sembra quasi nuovo è quello che è stato costruito per i mondiali d'Italia 90 sembra nuovo cioè non c'è bisogno di fare niente stiamo parlando quindi di 30 anni fa comunque vi mancano dei pezzi sul quale mancano dei pezzi le società devono fare tutte le state parlando di una cosa che è superata modifiche degli ammodernamenti che però serviranno per entrare allo stadio che serviranno per entrare allo stadio o accedere ai parcheggi sotterrani formalmente è un'opera pubblica perché il tunnel patroclo è formalmente dei milanesi ecco questo è di proprietà comunale ma dal punto di vista della ricaduta sul territorio circostante ricordo che a 100 metri di distanza in linea d'aria dallo stadio c'è il famigerato quartiere Selinunte quartiere popolare dopo parliamo un pezzo perché forse Bestetti non sa qual è stata invece la proposta che è condizionante Diana però ti parliamo di proposte o di promesse o di placeramenti ma scusa ma non sono non è promossa al momento stai dicendo delle cose che non corrispondono a quello che sta succedendo quindi ti manca un pezzo perdonami lo riprenderai poi se hai un lavoro in aula però adesso non diciamo sciocchezze perché di stadio qualcosa so ma non dubito non sai dell'evoluzione evidentemente la delibera della giunta sala l'ultima delibera votata due settimane fa che pone le nuove condizioni tra cui lo 035 riduzione delle volumetrie non dice assolutamente un'acca in merito agli investimenti delle società fuori dal perimetro sono dichiarazioni a parole non delibere frasi che il sindaco ai microfoni dei giornalisti dice come auspicio ma nella delibera di giunta che è quello che conta ci sono 035 di volumi le olimpia di almeazza ma non parla del quartiere Selinunte i soldi Bestetti accusa che nessun onere di urbanizzazione andrà a finire nel quartiere Selinunte questa è l'accusa di Bestetti dopo la pubblicità la tiesa è finita nuova Land Rover Defender 90 è arrivata sono Luca Fagnani e vi aspetto qui in JB Cars proprio nel cuore di Monza per farvela scoprire nuove motorizzazioni 6 cilindri mild hybrid e con Freedom Plus può essere tua con 12.000 euro di anticipo 36 rate da 370 euro e tra 3 anni la ricompriamo al 59% del valore d'acquisto scopri tutte le nostre offerte su jbcars.it ciao a tutti sono Rossana vi parlo da Triumph Sesto San Giovanni via le fratelli Casiraghi 427 qui abbiamo la nuova Tiger Sport 8.50 11.004 prezzo franco concessionario due colorazioni disponibili è appena arrivata quindi vi aspettiamo in concessionaria per potervela illustrare e speriamo di averne una anche per farla provare però questo ci aggiorneremo più avanti intanto vi aspettiamo buona giornata a tutti ciao Motor Times è la storica concessionaria Yamaha di Saronno una struttura moderna in cui troverai tutta la gamma delle moto e degli scooter Yamaha un fornitissimo reparto dedicato all'abbigliamento ai caschi agli accessori e un magazzino ricambi pronto a soddisfare in un lampo qualsiasi richiesta il reparto assistenza e l'officina sono i punti di riferimento per il cliente Yamaha per tagliandi veloci il montaggio di ogni tipo di accessorio o il cambio pneumatici da Motor Times trovi anche una vasta disponibilità di moto usate delle migliori marche Motor Times a Saronno e a Legnano ciao a tutti Roberto Godieri vi presento la mia azienda ID Group e i miei brand Electro Discount tutto il mondo dell'illuminazione e conversione con le nuove tecnologie per la vostra auto e la vostra moto ma anche i camion officina 5x3 tutto il mondo della manutenzione meccanica auto-moto cubicatura Milano water transfer printing discount gomma tutto il settore delle gomme e l'ultimo di Pior Carlodi il plastic vernice rimovibile vi aspetto sempre sui miei canali Roberto Godieri Cianne YouTube Instagram Facebook e TikTok ciao dal 1987 il dottor Schiavone Emilio lavora per migliorare la masticazione e riportare il sorriso le protesi dentali senza palato sono molto più sottili e leggere da 590 euro con garanzia 10 anni se sei distante da noi non ti preoccupare potrai utilizzare il servizio navetta direttamente a casa tua telefona al numero verde 800 68 71 91 il dottor Schiavone Emilio ha una lunga esperienza professionale riesce a risolvere per sempre i tuoi problemi con le sue protesi oppure con denti fissi su impianti chiamaci al numero verde 800 68 71 91 e ti daremo tutte le informazioni che ti servono le nostre protesi dentali sono molto più leggere e resistenti sono rinforzate con un'anima in metallo in un bagno d'oro oppure in vetro con una struttura sagomata nei punti più delicati o sottili le nostre protesi dentali senza palato molto sottili e leggere sono garantite 10 anni chiamaci al numero verde 800 68 71 91 ti accompagneremo noi al nostro studio allora stavamo dicendo che l'accusa di Bestetti è che con il nuovo stadio non ci saranno soldi del gionero di urbanizzazione sul quartiere però De Marti diceva il quartiere popolare lo chiamano solo il quartiere è il quadrilatero poi torniamo sulla vicenda proprio del Meazza però adesso chiariamo questa cosa De Marti è che così come la delibera precedente è stata modificata nel suo indirizzo da quell'ordine del giorno di cui parlavamo prima che ha dato dei criteri diversi che sono stati poi seguiti la stessa cosa avviene adesso nel senso che noi stiamo proprio lavorando per capire come quegli oneri di urbanizzazione invece devono avere necessariamente una ricaduta sul quartiere ma sul quartiere nella parte appunto del quadrilatero di San Siro perché è necessario che non ci sia già c'è una frattura lo sappiamo bene che San Siro è divisa in due una parte appunto che è quella del quadrilatero quindi di degrado e di difficoltà che è questa che si vede bene da riqualificare e l'altra parte invece delle case oltre quella barriera che non c'è ma è come se ci fosse che sono invece le ville di San Siro quelle dove vivevano i Ronaldo per esempio per esempio diciamo che c'è quindi non puoi c'è abbastanza discrepanza tra le due parti è una roba tipo città del Messico è proprio una divisione spaventosa allora non puoi riqualificare un'area come verrà riqualificata come quella di San Siro senza che ci sia un intervento anche dall'altra parte io credo che su questo siamo d'accordo ma i soldi degli oneri ci vanno o no? al momento no però noi lo stiamo costruendo così come abbiamo costruito quell'altro ordine voglio dire non è che uno si mette lì e scrive due scemate perché così le ha messe studia rilevo una cosa però al momento non ci sono ma c'è la vostra intenzione a metterle ok però non raccontiamo fantasia ai cittadini ci stiamo lavorando e anche io ci sono in consiglio comunale l'ultima seduta ho fatto un intervento su questo quindi però diamo un elemento di realtà ai cittadini quando i volumi edificabili per le società erano più alti degli attuali e quindi generali più ricavi e più oneri capito quella è una scelta scusami Diana neanche allora c'era neanche un euro su Solinunte quindi mi chiedo se Milano e Inter non riuscivano a tirar fuori neanche un euro per il quartiere di Solinunte neanche quando avrebbero guadagnato di più mi sembra una strada molto più stretta adesso in cui costringiamo le società a guadagnare di meno a costruire di meno e in più gli chiediamo di spendere soldi in Solinunte allora dal consiglio comunale oltre all'intervento che hai fatto tu adesso che sei arrivato con questa nuova amministrazione molti erano stati gli interventi fatti precedentemente proprio dicendo questo quindi siccome però non c'era ancora un accordo riduciamo i volumi no certo riduciamo i volumi quella è una scelta che rivendico avremo meno oneri ma avremo un rispetto invece dell'ambiente cioè per voi contava di più il rispetto dell'ambiente degli oneri ma assolutamente del PGT come dicevate voi che prevedeva quello e che andava a rispettare ma io continuo a dire con uno stadio che può essere ristrutturato costando la metà si liberano sicuramente risorse per fare altre cose al netto liberano risorse da parte di chi beh non è che Inter e Milan mettono i soldi non è che li mettono per finanziare le case popolari Inter e Milan dipende come viene strutturato l'accordo con le squadre ma quello che voglio dire scusami Mariani mi sembra abbastanza improbabile che il Milan esatto che Sala dica fammi San Siro spendi 300 mila e poi me ne dai 200 mila visto che risparmi dall'altro stadio per le case popolari che deve essere trasformata capito ma gli oneri sono calcolati su quello che spendi non è che te ne dà di più perché tu ne chiedi di più cioè sono in base a ciò che spendi si possono anche chiedere eventualmente extra oneri non è una cosa è possibile prima cosa esatto e su che cosa costruisci il tuo progetto se non ci sono risolti il piano economico finanziario ci si mette il becco gli lo mettono il becco i comuni e hanno i settori del comune hanno rilevato che il piano economico finanziario delle squadre fa acqua da tutte le parti non lo dico io lo dicono i settori del comune adesso aspettiamo quello nuovo se il precedente se il precedente con un miliardo e due faceva acqua cosa farà questo non lo so lo vedremo appunto non lo sai quindi adesso aspettiamo di vederlo però il tema di fondo è sempre quello non si vuole andare a verificare la fattibilità di uno stadio che costa la metà questa è la soluzione del problema perché quello che mi prometto di darti del tu Diana ci conosciamo da anni ci mandiamo quello che tu stessa hai detto noi ci troviamo con un progetto che distrugge un parco di mezza la superficie verde quella reale filtrante ci vende per verde tutto quello che è verde pensile e di fatto non genera risorse ammesso che sia diciamo no che non genera risorse l'ha detto Bestetti io non te lo dico perché so che le risorse saranno generate e so anche come vorremmo indirizzarle tra l'altro per risorse intendete i famosi eroni i famosi eroni che chiunque costruisca col PNRR in arrivo voglio dire le case popolari il comune farà il comune ha alerser purtroppo le case popolari sono di alerser il comune non può fare niente a meno che non ci sia un accordo quindi il problema maggiore se ti posso dare ragione sulla cosa è che purtroppo il problema maggiore sono le case nel quartiere ma io stavo dicendo quello e non dipendono da noi il comune e alerser si metteranno d'accordo su come destinare quelle risorse ma andare a parlare delle case popolari di piazza Selinunte mentre stiamo parlando dello stadio di San Siro secondo me è deliberatamente distraente scusa io però non ho parlato delle case popolari perché sono di alerser io non posso usare gli alerser su quelle case scusami parlo del quartiere che non ha bisogno su quelle case nel quartiere ha bisogno di tantissimo parlarne insieme allo stadio sono due cose secondo te sono talmente vicini che non puoi non parlarne quando fai quella riqualificazione aveva sentito non come ne stanno facendo adesso aveva sentito parlare senza come perché non devi creare un'ulteriore frattura che già appunto è come un muro lì nella vecchia delibera sulla questione alerser di nonte eccetera non c'è traccia di niente si ne parla anche nella nuova ma esisto anche adesso si ne parla perché no noi ne abbiamo sempre parlato ragazzi però è vero allora l'abbiamo sempre detto parlato ne avete però al momento non c'è scritto niente al momento non c'è scritto però così come non c'era scritto l'ordine del giorno dopo la prima delibera ci sarà scritto adesso che non è conseguente ma non insieme alla delibera quello che invece riteniamo necessario come consiglio comunale fare come intervento io però vorrei sempre ricondurre a chi ci ascolta al tema di fondo perché quando c'è di mezzo i numeri c'è di mezzo l'ingegneria è una cosa fantastica perché non ci sono opinioni se non ci possono essere e che numeri vuoi dare e non c'è ancora nessuno che ha confutato che questo progetto da 300 milioni di euro che costa la metà per lo stadio di San Siro non va bene e questo è il tema di fondo no il problema è che non va bene a Inter e Milan Mariani ma non va bene a Inter e Milan ma non va bene anche per me siccome sono Inter e Milan che devono tirare fuori soldi infatti molti sostengono non va bene a loro e credo che quello sia lì in punto e penso anche amici anche persone con cui Mariani parlano che alla fine il problema sia anche una questione di speculazione edilizia e c'è questo sospetto che ha legge ma parliamo che vogliamo anche parlare aspetta lui ha dei numeri Mariani ha dei numeri no 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 i numeri a me interesserebbe anche che si affrontasse anche il tema del fatto degli interlocutori che il comune di Milano ha davanti da due anni cioè Inter e Milan Inter e Milan cioè io qua voglio dire riporto quello che ci dice David Gentili validissimo Presidente della Commissione Antimafia fino al 2021 fino a ottobre mi dispiace molto che non è più nella compagine del Consiglio Comunale allora il tema di fondo delle squadre oltre a un progetto che ha tutte le criticità possibili sotto il punto di vista finanziario quello del nuovo stadio del nuovo stadio ma anche sotto il profilo tecnico sotto tutti gli aspetti Inter è posseduto per il 69% dai cinesi il 31% riporto quello che ci dice David Gentili il 31% è controllato da un fondo di Hong Kong che è controllato da una società che ha sede nelle Cayman che è controllata da una società che ha sede nelle Cayman che è controllata da una società con sede nelle Cayman che a sua volta è controllata dalla Lion Rock Capital che ha sede nelle Cayman questo è l'Inter Grillo una volta diceva è un coccodrillo 67% della Red Black in mano alla King George il 100% di questa è detenuto da una società Elliot International LB con sede nelle Cayman più del 90% di questa società è detenuto da una società con sede nelle Cayman e l'altro 28% dalla Progete della Red Black che è detenuto da una società con sede nel Delaware questo è quello con cui il comune di Milano sta dialogando da due anni e non siamo ancora arrivati alla soluzione quindi per te il problema è che sono fondi sono società di cui non gliene frega niente di Milano questo stai dicendo ma niente e questo è il senso ma neanche dell'intera del Milan possiamo affermare che questo compagine societaria è una compagine opaca possiamo aggiungere il fatto che dove c'è opacità potrebbe anche esserci non mi riferisco a questo caso mi riferisco in generale dove c'è una certa opacità ci può anche essere un problema di riciclaggio vogliamo dire questo secondo te sono soldi sporchi o sono soldi che forse non arriveranno io mi sto riferendo che in generale dove ci sono delle opacità di questo tipo si fanno delle indagini si verificano e non si prendono i soldi così no bisogna risolvere il problema allora ti do la risposta noi abbiamo scritto e cioè abbiamo detto che ci deve essere beh ragazzi ma questi sono gli atti che il consiglio comunale può fare ho capito quando sarò in giunta vi dirò che la fa la punta ma chi se non frega però anche Manzoni ha scritto il 5 maggio no ma ragazzi però sembra che state svalorizzando il lavoro che viene fatto il consiglio comunale lo trovo vergognoso e infatti allora non ho capito perché ti sei candidato in consiglio ma no ma facciamo in modo che si traduca in fatti allora vai in aler e intanto vi rimette a posto le case di San Siro cos'è che allora per quanto riguarda l'opacità dei fondi che gestiscono Inter e Milan voi cosa avete risposto se ci fosse un'indicazione precisa dicendo così una chiara e trasparente rappresentazione dei titolari effettivi delle società contraenti la concessione comunale prevedendo negli atti richiesti una dichiarazione nella quale il proponente indichi i rispettivi titolari effettivi così come definiti dal decreto legge ma se questo è successo è successo e lui a un certo punto ha detto l'internut però non abbiamo chiuso l'accordo cioè voi avete visto che è stato tutto chiuso l'accordo no vorrei capire se voi sapete delle cose che noi non sappiamo ma non è che cambi titolari effettivi sono quelli bene allora saranno in grado di dirci esattamente quali sono quelli sono va bene allora sapete tutto voi avete anche già il progetto no no va bene io non ho capito i titolari sono questi qua ho capito ci daranno delle indicazioni così come richieste di chiarezza di trasparenza e di trasparenza ma no ma allora scusate non è un reato essere una società assolutamente un proprietà appunto dico nelle calme nelle calme è tutto corretto è tutto legittimo nel presupposto che giustamente ovviamente è tutto legale nel rispetto della legge posso però da cittadino milanese da amministratore ritenere che si debba fare l'interesse di Milano e che probabilmente una società delle caiman dello stadio non ce ne può fregare probabilmente no ma il problema è l'ha avuto lì magari mi interessa io ricordo solo lui prima del voto lui prima del voto io ricordo benissimo che disse c'è un problema perché c'era la questione Inter c'era la questione Inter che non aveva soldi che non ha soldi vorrei capire chi sono esattamente ok anche a seguito non è cambiato niente non è cambiato niente è cambiato solo che è stato rieletto e dopo due settimane non aveva capito che era l'Inter un momento a me risulta che il Milan abbia depositato tutti i documenti ma infatti il problema era l'Inter non era il mio mi risulta poi smentitemi però mi risulta che manca ancora qualche documento dell'Inter però il documento non è che sposta perché il documento dell'Inter certificherà che il proprietario il titolare effettivo dell'Inter è la Cayman and Friends delle Cayman appunto cioè poi che si chiami Cayman and Friends Cayman e Pippo non cambia assolutamente nulla è un atto formale dovuto perché deve essere così ma non mi sposta il tema sì però Marco scusami se questa situazione che io posso anche condividere sarebbe tale anche con 300 milioni per lo stadio ma certo non è che cambierebbe l'opacità la stranezza il disinteresse io non ho mai parlato di opacità no ok il disinteresse diciamo così resterebbe anche se ristrutturano il meazza no perché l'interesse di Milano è di tenersi il suo stadio se poi la società Cayman che non gliene frega nulla di Milano consente a mia richiesta di tenere lo stadio siamo felici cioè tu dici il fatto che loro sono disinteressati si manifesta nel fatto che fanno un altro stadio ma demoliscono un monumento di Milano il monumento non viene demolito ma Berlusconi e Moratti proprietari di Milano Inter non l'avrebbero mai fatto Moratti non l'avrebbero mai fatto ma non si sarebbe neanche mai sogna ma qualunque milanese qualunque milanese ma anche un milanese da adozione è arrivato l'altro ieri non si sognerebbe mai di rasare al suolo la scala del calcio infatti non viene rasare al suolo cioè io non capisco su che base diciamo una cosa che non succederà perché il fatto che venga ridimensionato ridimensionato non significa abbattolo quindi sono due ok facciamo arriviamo alle conclusioni dopo la pubblicità arriviamo alle conclusioni perché sì era della sola un'altra cosa perché arriviamo a qualcosa di concreto cioè che fine fa San Siro però perdonati il concreto è il progetto perché nella versione originaria lo dico in 10 secondi nella versione originaria le società dicevano stadio nuovo e rado al suolo San Siro esatto non è più così dopo di che è intervenuto il famoso ordine del giorno del comune di cui cita e cita la consiglia di Marchi che è servito tenere insieme un moncherino ridicolo del Meazza ad oggi siamo a quello però scusami Marco se invece come noi abbiamo chiesto e come immagino diventerà sempre lì quando l'avete chiesto sempre con quell'ordine del giorno che tu cibi quell'ordine del giorno ha generato il secondo progetto che per vedere che riguarda una cittadella dello sport nella parte dello stadio del Meazza così come viene mantenuto non è un moncherino che viene segato è una riqualificazione scusate è giusto che i cittadini fedano perché non è un moncherino è un moncherino adesso la prepariamo durante la pubblicità allora mandiamo la pubblicità e poi vediamo questo moncherino che resta dopo la pubblicità scopriamo insieme le grandi offerte di Motostar concessionario Honda è arrivata l'offerta di fine stagione anche quest'anno Africa Twin modello standard L1 con la sua meravigliosa linea filante immatricolata a chilometri zero assolutamente nuovissima nel 2022 arriveranno le nuove livree e quindi abbiamo pensato di offrirvela con il cambio DCT e il pacchetto Urban quindi paradessa rialzato maniglione posteriore e bauletto originale Honda al fantastico prezzo di 13.640 euro più passaggio di proprietà c'è qualcosa di nuovo in città l'esperienza del gruppo Fassina incontra il glorioso marchio MG e la sua gamma di vetture ibride ed elettriche un vero concentrato di tecnologia ed efficienza con 7 anni di garanzia e ben 5 stelle Euron Cup affidabilità e sicurezza ma anche interni spaziosi confortevoli e ricchi di funzionalità intelligenti c'è una MG e HS plug-in hybrid adatta ad ogni stile di vita vieni a scoprirla e a provarla da Fassina in via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano c'è un grande fermento alla mondo FLEX questa è la telepromozione di fine anno e ancora una volta devo dirvi grazie grazie per aver premiato la nostra professionalità vi aspettiamo con le nostre offerte di fine anno una rete con alzata a motore con un materasso in memory a 590 euro e in regalo un guanciale e un coprimaterasso poltrona relax a due motori più il movimento alza persona con il kit roller a soli 850 euro e in omaggio il set copripoltrona un cuscino poggiareni e un collare per la cervicale queste sono solo alcune delle nostre promozioni con i pagamenti rateali senza interessi agevolazioni fiscali e il super sconto della carta oro ma chi sono io Babbo Natale? scegliete Mondoflex perché Mondoflex fa la differenza buon Natale e buon anno a tutti complice miglior amante miglior amico in una parola sei tu ibrido per natura nuovo Renault Arcana nuova Arcana i-Tech Hybrid tuo da 249 euro al mese Renault protegge il valore della tua auto nel tempo il moncherino allora vediamo quello che resta di San Siro quello che resta di San Siro cosa sarebbe? quello che resterà eccolo lì sembra non c'entra più qua c'è gente che gioca a calcio peraltro tutto quel verde è frutto degli architetti fantasiosi e poi bisogna vedere la realtà perché anche quando compriamo casa e sembrano sempre delle cose immerse nei parchi e poi sembra tutto un gran posto verticale è questa roba qua ecco questo è il meazza se non è questo un moncherino trovate voi il nome giusto e vedevate che c'era una torre sopravvissuta e parte del secondo del primo anello ma poi dal lato opposto niente Prato perché è in discesa praticamente c'è una torre e poi si scende a degradare a degradare dicevano doveva farci giocare il calcio futura eccola qua una torre resta poi c'è la scalinata verde e tutto questo verde a parte quello del campo quello che si vede a destra non è verde permeabile è verde finto quello della scalinata erba sintetica è un'erba sintetica forse neanche quello in mezzo perché lì sotto sono le fondamenta dallo stadio non lo so se le tirano via quindi questo è definitivo o no Diana? no non è definitivo di definitivo non c'è ancora nulla però è l'ultimo che c'è l'ultimo che c'è quello lì sì però come sono cambiati gli altri modifichiamo ma voi avete intenzione di modifichare ma stiamo lavorando su questo se no perché lavoriamo perfetto mi domando che senso ha il nostro lavoro sì ma che senso avrebbe tenere San Siro intero se venisse costruito il nuovo stadio con due stadioni uno accanto all'altro non avrebbe senso quindi più o meno sarà quella roba là però secondo me non sarà così almeno noi non ce lo immaginiamo così e mi auguro che riusciremo a lavorare insieme e come ve lo immaginate? l'altra parte come è stato detto la cittadella dello sport quindi la possibilità di avere attività sportive all'interno che non mi sembra che lì si può fare ma come c'era gente che giocava lì? beh ma non all'aperto fuori giocare cosa solo ad agosto puoi giocare cosa giocherò? a fare lavoro con la nebbia ci abbiamo giocato cent'anni ma no ma non è così che ce lo immaginiamo e non è così che mi auguro sia il progetto che arriva quindi qualcosa è un po' più distrutturato ma sicuramente questo è obiettivo questa roba qua questo moncherino come l'abbiamo chiamato è la classica situazione della via di mezzo non lo possiamo radere al suolo teniamo un pezzettino di meazza che così fa bene parliamo di cittadella di questo cittadella di quello e facciamo tutto cioè andiamo lì con le foto del memoriale io torno a dire non sono per parlare sono per fare come istituzione dovresti invece veramente entrare nel merito del nuovo progetto e dialogare con le squadre le squadre invece che presentare il loro progetto gli si chieda quali sono i livelli di performance che deve avere il nuovo stadio i livelli di performance se si confronti il progetto a centi magistrati con il progetto delle squadre questo è il tema di fondo che bisogna rendere note ai cittadini e su questo avere una posizione cioè secondo te il comune alla fine si è fatto quello che gli hanno chiesto le squadre ha mantenuto solo l'indice volumetrico del PGT e per il resto ha abbassato la testa è questo che stai dicendo la politica ha fatto una scelta no ma anche la cultura tecnica che c'è all'interno del consiglio comunale che per carità non si può essere scienziati di tutto un consigliere comunale non può necessariamente per questo che c'erano i tecnici che hanno partecipato a tutti gli incontri però la competenza tecnica che richiederebbe di affrontare questo progetto anche sotto il profilo istituzionale secondo me è assente ed è totalmente divandata insomma se tu avessi partecipato a tutti i dibattiti che ci sono stati avresti visto le competenze presenti che ci indicavano ma io sono più che ho partecipato ho anche detto i verbali della conferenza dei servizi che criticano che criticano in modo pesante questo progetto quello di cui parla Mariani l'esempio che fanno tutti è il Bernabeu a Madrid Bernabeu ha fatto Bernabeu nuovo con tutte le funzioni che servono a uno stadio moderno senza buttarlo giù ma rifatto anche quello è un pezzo di storia della Spagna intera l'altro ieri il Real Madrid ha preso ha detto bene diamo a un fondo perché servono anche a quello i fondi anzi forse meglio che facciano quello diamo a un fondo statunitense la gestione dello stadio 400 milioni incamerati dal Real Madrid questo può essere una strada cioè quello che dice lui è arrivare a una cosa di questo tipo tu saresti d'accordo certo ma non solo io ho scoperto che la gestione per esempio estiva dello stadio col tema dei concerti l'intrattenimento oggi è gestita dalle stesse società che gestiscono anche il campionato cioè Milan e Inter ma con tutto rispetto ma che diavolo ne sanno Milan e Inter di capacità di sfruttamento economico di un bene come lo stadio e perché non si lavora a un ulteriore aumento dei ricavi magari affidando la gestione a una società a una società esterna che sa fare questo tema mai affrontato che potrebbe acquistare però questo nel dibattito del Consiglio Comunale può servire anche a questo e aggiungo una chicca sulle competenze tecniche che chiude il cerchio quando ponevamo il tema già negli anni scorsi della permanenza del meazza rifunzionalizzato o scusate riqualificato riqualificato le società ci dicono no non si può fare e quando ne chiedevamo al Comune ma scusami ma non fidiamoci delle società che possono tirare acqua al loro mulino chiediamolo a un soggetto terzo se effettivamente hanno ragione le società sapete a chi l'ha chiesto il Comune di Milano se effettivamente si può o no ristrutturare al Politecnico di Milano sapete chi è il Politecnico di Milano consulente di Milano e Inter e quindi tu dici il conflitto di interessi voglio dire mi sembra palese le prossime tappe quali sono siamo in chiusura le prossime tappe dal punto di vista del Consiglio Comunale quali sono noi stiamo lavorando su quella proposta di utilizzo degli oneri di urbanizzazione ok quindi e mentre sul Moncherino mentre sul Moncherino mentre sul Moncherino e poi ci sarà il dibattito pubblico sul Moncherino entrerà nello stesso anche quello entrerà però soprattutto i progetti nuovi noi abbiamo pochissimo tempo il dibattito pubblico quando dovrebbe essere il dibattito pubblico da Munguzzi oggi oggi l'ha detto e credo che sarà la settimana prossima andrà sicuramente seguito bisognerà seguire il dibattito pubblico io credo che sarà molto utile il dibattito pubblico in vista del referendum perché il dibattito pubblico sarà un luogo dove informare i cittadini in modo aperto però il dibattito pubblico va fatto su delle basi concrete se tu non sai quali sono i progetti il dibattito pubblico le posizioni e io lo dico perché non è che so va bene allora noi continueremo a seguirla mi sa che ce la portiamo dietro fino a giugno fino a giugno mi sa che noi faremo puntate su San Siro anche perché lo faremo la prossima volta che facciamo le facciamo vedere perché è partito anche il progetto del trotto lì accanto che è un po' collegato anche al fatto teniamo su non teniamo su San Siro certo certo prima di Natale facciamo magari un'altra puntata per parlare di questo va bene grazie a Diana De Marchi grazie a Marco Bestetti grazie a Gabriele Mariani in regia Ambra Fiette Silvio Valsecchi e qui con me a te qui con me grazie a te non scioglilingua comunque a proposito di calcio finita la pausa della nazionale si ricomincia domani c'è Milan Fiorentina giusto e quindi lui si rimette il vestito da Mr. Hyde grande ok adesso è il dottor Jackie e adesso il dottor Jackie ci vediamo lunedì con me e venerdì con tutti e due buonanotte buonanotte grazie a tutti grazie a tutti